Polifemo, il fattaccio, si trova a Taranto presso la discesa del lungomare, oltre appunto così la scarpata, in compagnia di Ugo Lomartire, già consigliere comunale di Taranto e già presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli. Ugo Lomartire ci ha segnalato una serie di situazioni di degrado riguardanti appunto il lungomare in termini di sicurezza, di igiene e quant'altro. Allora, Lomartire, quali sono i punti di maggiore criticità? I punti di maggiore criticità si vedono chiaramente purtroppo dalle immagini una situazione di degrado, una situazione dove veramente venire a fare qui una passeggiata è l'ultima delle idee pensabili in quanto c'è una situazione di sporcizia, in quanto nelle panchine non ci si può sedere perché la terra sta inondando tutte le panchine, in quanto il verde è incolto, in quanto ci sono situazioni di pericolo per quello che riguarda la mattonata, perché in più punti o mancano i mattoni o mancano i tombini e quindi veramente diventa una situazione inaccettabile per quello che è il degrado e tra l'altro ci troviamo in una situazione dove il lungomare di Taranto è centralissimo per quello che riguarda la città di Taranto, non ci troviamo in un'estrema periferia che non sarebbe giustificato neanche in un'estrema periferia, ma siamo nel cuore di Taranto. Ecco, cosa si sente di dire all'amministrazione? Beh, mi sento di dire che sono quattro anni di questa amministrazione e in quattro anni la situazione non è cambiata, c'è stata sempre questa situazione di veramente invivibilità sia per i residenti sia anche per le persone che vengono da fuori. Io mi domando nel momento in cui dovessero venire delle persone da fuori che situazione vengono a vedere, è una situazione vergognosa, assurda e inaccettabile. Oltre quattro anni dal punto di vista politico e amministrativo sono veramente tanti per lasciare una situazione in queste condizioni. Quindi chiedo un urgente intervento da parte dell'amministrazione, ma tra l'altro comunque l'intervento sarebbe in estremo ritardo perché con oltre quattro anni di queste immagini che si vedono chiaramente non è accettabile che il cuore della città di Taranto, che deve guardare al turismo, non deve guardare alla grande industria, deve essere lasciato in questa situazione e qui per curare questo lungomare occorre buona volontà, occorre organizzazione, non occorrono tantissimi soldi. Però se si arriva addirittura che neanche il verde viene potato in maniera adeguata e neanche vengono pulite le panchine, tra le altre cose neanche vengono sostituite e sostituiti quei mattoni che mancano, siamo all'assurdo e inaccettabile. E allora Lomartire, noi ci rivolgiamo agli amministratori, agli assessori al ramo per darci risposte e anche per fare un confronto. Tra l'altro avevano annunciato un anno fa in Pompamagna l'inaugurazione dei lavori, dell'inizio dei lavori del pontile Rota. Siamo nel 2021, questa è la situazione del pontile Rota, che non sono partiti né lavori né nulla e siamo nel degrado più assoluto. Fare gli annunci e poi non essere conseguenziali, questo non è bello. E ripeto, quando anche si dovessero iniziare questi lavori di risistemazione, oggi si ritroverebbe in un ritardo estremo assoluto, perché parliamo di quattro anni, non di quattro giorni e non di quattro settimane.